è bruttissimo vedere Shino89 ha la coda delle classifiche che non è esistito in questa partita meno male che c'ero io non è stato molto presente in queste partite tranquillo lo 0 ma posso curarmi? ah no sono al massimo quando mai? perché avete schiattato tutti e quindi quindi basta schiattare per avere il massimo lo vedrete nel filmato ho avuto culo perché non so come mai ma il moletto si è spostato di 2 metri e quindi ho avuto lo spazio per passare a girare il charger altrimenti sarei stato preso in pieno vada 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 eh lo so ero piegato e ti ho un attimo però dai siamo a crash numero 5 ma ancora ma no vai via coso schifoso vedi in questo momento che cacchio mi serviva dire sto ricaricando è che sei programmata per farlo ma che cacchio ma che cacchio guarda è là no beh eh nino perché allertici? allora o è nino o è gianluca ma io non ci sono eh anche quando non ci sei mi sa che è allertito no che è colpa mia chinatevi chinatevi col pensiero basta con questo chinatevi però te eh davide mi stai approfittando un po' troppo non puoi stare con tutte le persone normali senza chinarci no io dicevo anche a francis francis adesso francis gialluca chinati anch'io mi devo chinare aspettate eh eh mancavi solo tu ormai così che nacque l'automasturbazione orale cosa devo dire inginocchiatevi va bene è meno ambiguo se dico inginocchiatevi e allora quando venite circondati sappiate di dovervi abbassare e allora chi se la prende la witch? va bene io io smetto di parlare perché volevo prenderla però in realtà non ho fatto in tempo a ricaricare ma chi mi sta curando francis tanto non è shin vero perché nino non lo capisco a noi che poi non so perché associo no ragazzi sto tentando di risolvere il problema ma associo sempre la witch ha aiuto aiuto di credo of field nella canzone temptation arrivo arrivo vengo fai quello che vuoi ti ho salvato mentre ero in ginocchio che volo che ha fatto rilodi brava sta imparando anche quando vado in bagno rilodi adesso li cattivisco da quanto sono fastidiosi ma che ok io sto qua chinato e voi uccidete dietro madonna tranquilla tizia yeah crash numero 6 no ma dai non è possibile qui c'è un laser se volete prenderlo per le vostre armi eh no a me servirebbe munizioni allora il mio personaggio ha detto hai sentito l'hunter? io l'ho sentito? no no tutti qua su ah siamo arrivati alla fine praticamente no ah pensa che culo yeah nino è stanco perché sta facendo una partita proprio imperiativa parca puttana guarda ragazzi non mi sono mai stancato così tanto a giocare a life for death beh dai nino pensa che ti salverai senza aver fatto nulla anche quello è vero allora volete che vi spieghi come funziona qui o andiamo a sorpresa? eh ci sono no io vorrei solo delle munizioni non sto scherzando però non ne ho qua dove sono io posso immaginarlo come possa funzionare questa parte cioè io che ci chigliamo tutti e forse è il caso che ci curiamo prima tutti eh eh infatti ok cosa dobbiamo fare? antitolorifice bisogna attivare vabbè dai attira l'orda aspetta 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 ancora sto preparando le tanniche ah ok si sta organizzando il signor Dave caro mio è il segreto del successo è tutto è tutto i preliminari in pratica e fu così che il gioco crashò del tutto dopo che si era fatto il culo per organizzare il tutto sappiate che gli zombie arrivano anche da lì eh da dove? da lì venite qua venite tutti qua venite tutti qua venite tutti qua da lì ok spitter ah arrivano da qua anche dio sacro che ce ne liberi credo che questo sia il il montacarichi più lento che esista al mondo è fatto per è per mettere ansia diciamolo se fossimo in un film avremmo sparato i tubi pneumatici in realtà se fossimo in un film a quest'ora tu saresti già morto perché il nero è il primo che muore i neri dai dal 2000 in poi hanno cominciato a sopravvivere sono i messicani che morivano ormai il nero è stato soppiantato dal a volte c'è l'asiatico anche se l'asiatico tende ad essere il più però non abbiamo un messicano adesso mi stanno inquolando minchia ho ucciso ho ucciso un'altra al bordo sparando a caso perché non l'avevo nemmeno mirato ma non si sta muovendo il time montacarichi o sbaglio si si sta muovendo sto prendendo per il culo ah ok tank tutti giù tutti via tutti via che si arrampica si arrampica e lo so che si arrampica però magari cerchiamo di ammazzarlo ok io vi sento le munizioni veloce ecco questo è bello farlo in avanzato si 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 c'è proprio amante del pericolo lui ma effettivamente l'ascensore non si sta muovendo non è che abbiamo dimenticato eh io ve l'ho detto che non si stava muovendo ma a me non mi chiedeva no abbiamo dimenticato qualcosa io la percepisco muoversi molto lentamente però la vedo muoversi aiuto aiuto ho visto un coso che mi arrivava sotto e non era Davide adesso ma signorina signorina lei mi ha preso per il molestatore sa una nuova aggiunta agli infetti speciali di Left 4 Dead il molestatore cazzo son caduto cazzo son caduto cazzo son caduto cazzo son caduto droga 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 vediamo è successo qualcosa dobbiamo andare a riaccendere il generatore eh si io devo andare anche a prendere delle munizioni perchè ormai sono a secco eh 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 meno male che c'è Shin adesso sei riuscito a entrare finalmente c'è ma si io caro mi stavo curando e mi mi se mi copri un attimo mi curo da solo non mi picchiare 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 puttano la miseria ma come aiuto a tank ma dov'è aiuto però siamo bravi ragazzi dai ammettiamolo ragazzi è perchè ci sono io adesso perché ho dovuto dire le ultime parole famose ah finalmente dentro il montacarichi ce l'ha fatta ok tutti dentro tutti dentro dove ah il montacarichi nino hai un charge che ti sta incollando da dietro ho rischiato il crash numero 7 no dai nino il tempismo sei arrivato proprio per essere salvato signor davide zichini per favore va bene mi piegherò all'esistenza del mestiere e e e e Grazie a tutti.